con l'attuale premier i giochi del conte iassalvini non riescono più e la meloni non tocca più palla c'è una quantità di politici in crisi per colpa di mario draghi i più sofferenti sono nella vecchia maggioranza giallorossa che guidava il governo ma se l'è giocato a poker con quel professionista di matteo renzi così che potendosela prendere soltanto con se stessi gli orfani di giuseppe conte adesso si trovano su un pulmino pilotato da draghi che li sta portando altrove col caimano e col capitano pure loro a bordo oltretutto l'autista ha già dato un paio di brusche sterzate che smentiscono chi si aspettava manovre morbide in piena continuità per buona parte della sinistra si annuncia un viaggio da incubo ma non è che sull'altra sponda se la passino meglio anzi per molti aspetti a destra dovrebbero preoccuparsi di più i rischi che corre la lega sono quelli ben spiegati da mattia feltri sul laughington post difficilmente salvini potrà ripetere il giochino del 2018 quando era al potere con i grillini li bullizzava dettava loro lo spartito costringendoli a ballare la rumba e la samba stavolta non ci sono margini di manovra super mario è lì per fare due cose possibilmente in fretta distribuire i vaccini e incassare i miliardi dall'europa quella è la mission prendere o lasciare cosicché salvini non può stare con un piede dentro e un piede fuori alternando felpa di lotta e cravatta di governo come piacerebbe a lui tra l'altro draghi si sta muovendo senza ripetere certi svarioni del suo predecessore rispetto all'era conte meno storytelling e più fatti che parlano da sé non convince il capo della protezione civile si accomodi prego arcuria deluso vada a casa anche lui i vaccini non bastano prendiamo esempio da gran bretagna israele a bruxelles frenano l'ex presidente della bc sa come farsi ascoltare per adesso salvini può soltanto applaudire e mostrarsi soddisfatto se caricasse a testa bassa sfonderebbe una quantità di porte aperte a parte pochi dettagli non saprebbe che cosa obiettare la sua pistola propagandistica è scarica la bestia al guinzaglio si sta annoiando